Avendo acquistato la versione cartonata di lusso di Viaggio Nera Luna, che si presenta con una doppia copertina, una esterna colorata e una interna, diciamo così, in bianco e nero, mi è sembrato giusto farvi uno sfogliatopo particolare quest'oggi, ovvero mostrarvi la parte in bianco e nero del volume. Inoltre all'interno del volume sono anche presenti dei redazionali di approfondimento che ci permettono di capire quale sia stata la produzione sia della scena creatura sia dei disegni da parte di Bruno Henna, rispettivamente, e Alessandro Pastrovicchio, che sono i due autori dell'opera. E per completare il film di Georges Méliès, la redazione ha deciso anche di proporre la storia in bianco e nero senza lettering, in qualche modo proprio una versione un pochino più aderente alla versione originale del film, che era in bianco e nero e muto. Per cui mi resta che innanzitutto invitarvi a vedere lo sfogliatopo e poi, ovviamente, a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. E ora avvio al nostro meraviglioso e muto viaggio nella luna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.